ragazzi benvenuti e bentornati su xenogears allora dobbiamo andare nelle fogne a capire chi è che sta facendo tutte queste morti e anche per provare che non siamo noi i responsabili allora l'accesso alle fogne era dall'altra parte scusa eccolo qua ehi ma che tu tu sei il campione grazie per aver sorvegliato le fogne ora vado giù non far entrare nessuno oltre queste persone sì campione dove ci troviamo e dov'è il mostro cerchiamolo ma ripariamo quando lo troveremo davvero dubiti di me e adesso bene diamo un'occhiata qua intorno immaginavo saremmo dovuti andare là sotto possiamo anche aprire finalmente la cassa mappa kislev bisogna essere una mappa con il pulsante select davvero ah interessante sicuramente utile cerchiamo ancora qua intorno il luogo dell'omicidio è qua vicino ci saranno di sicuro indizi da trovare ah non possiamo scendere quindi dai qui questo è il luogo dell'omicidio cos'è questa roba viscida di sicuro non è umana la guardate ce n'è dell'altra qualcosa che il mostro ha lasciato ancora non è sicuro ma è molto verosimile no ho sbagliato volevo provare la nuova combo è la madonna madonna mia ma bellissima ok qui c'è dell'altra melma che il mostro ha lasciato quindi possiamo andare di sotto? si sembra come se si volesse nascondere da noi cosa c'è uscita? c'è qualcosa qui? il suono di un campanellino ho sentito qualcosa che sembra il suono emesso da un campanellino un campanellino un campanellino un campanellino? e sai qualcosa? e ora che me lo fai notare si dice che qua giù ci sia uno stanno sono il suono di un campanellino ah allora prima esploriamo ok immagino che non possiamo aia che cazzo è sta meba oh 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 Grazie a tutti. Madonna quanto toglie. Madonna quanto toglie. Madonna quanto toglie. Madonna quanto toglie. Meno male. Ok, Kikumu ha imparato. Ok, abbiamo imparato una nuova combo con Shitan. Vado a quanto è grosso sto posto. Devo vedere di qua se ci fosse qualcosa. A parte i nemici. Squali. Perché non posso attaccare? Ah. Alla prossima. È corretto. Alla prossima. È corretto. È corretto. È corretto. È corretto. Bene! E non è morto. Ma non schiatta? Ma non schiatta? E' incredibile questa cosa. Ma non schiatta? Oh, ma è incredibile! Ti prego! Cioè, io non... Non ho parole. Due triglie. Ragazzi, rieccoci qui. Stavolta non me ne frega nulla. Vado diretto dove è andato il mostro. Esploreremo un'altra volta questa... Questa sezione di gioco. Io fuggo. Già ho visto delle triglie... Una triglia e proprio no. Ok, da sola. Ok. Evitate ad entrare. E noi entriamo. Scusa. Perchè non mi ha fatto entrare? Perchè non mi ha fatto entrare? Ma che... Che cosa... E quindi... Anche qui. C'è ancora quell'odore. Sembra che qualcosa stia bruciando. Motore di bruciato? Capisco. Ehi, guardate qui. La bava scorre anche da quel canale di scolo. Sembra che questa bava sia stata lasciata qui dal mostro. Ok. Ora forse possiamo salire la scala. Ora che abbiamo indagato. Sì. Anche qui. C'è bava anche in questo scarico. Questo scarico è... A dove è collegato? Dovrebbe collegarsi all'impianto di depurazione. Giusto, deve esserci un posto dove si collegano tutti. Ehi, ma è... Sì. C'è qualcosa che si nasconde qua intorno. Di questo sono certo. Sa dove portano tutti gli scarichi? Sì. È accanto alla cascata che si trova a destra, nel punto più lontano da qui. A destra, nel punto più lontano da qui. Vabbè, questo possiamo affrontarlo. Basta non utilizzare i combo perché lui fa il contrattacco e dopo... ... 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 Ma lui prende un botto di danni, ma perché? Voglio vedere se... No, madonna! Voli premo tutti i tasti. Se stiamo imparando qualcosa... Hagan sembra che stiamo portando avanti. Ok, bene. Allora, quindi il punto più S dobbiamo passare da... E vabbè! Ah, sì. Utilizziamo un po' di giosti curativi, va? Ok. Vabbè, però adesso siamo a posto Più o meno Ma questi Di nuovo lui Grazie a tutti Grazie a tutti Porco Giuda Bene Allora, riutilizziamo Un po' di oggetti Sono uno stupido Sì Scusate Sì, sta crescendo Lintamente, ma sta crescendo Allora, il punto più est dovrebbe trovarsi Di qua, credo Lo sciaprote Uh Beh, lì c'è una scala, quindi E qui c'è della melma Madonna Nonna Eh? Cosa? Cazzo fai? Cazzo Non c'è la chiave Ma possiamo aprire la porta Spostati Fammi provare Eh? Cosa? Ah ah Com'è andata? Ah? Coglione, stia petirando Perché insisti a spingere? Davvero? Vabbè Evito di commentare Allora Ehm Voglio un punto per salvare Ho paura Lì c'è un'altra Un'altra scena del crimine Sembra che l'abbia beccato qui Anche qui Ehi, questa è la stessa roba Che abbiamo trovato prima C'è qualcosa scritto sul muro No Mostro Rosso Deve aver lasciato questo messaggio In punto di morte Deve averlo scritto Mentre moriva Un mostro rosso Molto interessante Da sotto c'è di sicuro qualcosa Eh, quello poco mi assicuro Ehm Cosa Cosa Ehm Cosa A posto Io comunque mi sa Dovrei ripetere un attimo il loro equipaggiamento Perché Mi sa che Non sono proprio Vediamo un po' La maglia rossa sicuramente gli dà più difesa Gli occhiali danno più precisione Però Non so quanto ne valga la pena Scarpe di strezza 2 Mettiti l'anello del vigore Lui c'ha la veste ferro C'è il dà più uno Mettiti il basco Ok Ah scusate non ho controllato se c'era da curare qualcuno No Ma dobbiamo capire dove è che dobbiamo andare Lì è chiuso Quindi sicuramente di qua Ma dobbiamo capire Ma dobbiamo capire Ma dobbiamo capire Chiaro Grazie a tutti. Allora, qui c'è una scala, saliamo. E quindi? Ci sono molti mosse, vabbè, sì. Torniamo giù di nuovo. Sì, ciò ce l'hai ditto. Noi abbiamo trovato un altro cadavere qui. Eh, mostro rosso. Quindi? Potevamo entrare di qua? Sento un macchina... L'impianto di depurazione mi sa che è quello laggiù. Penso. Niente, oh. Non mi prendi il... Non mi ha preso il quadrato. Su di me! Potevamo entrare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per raggiungerlo però non ci conviene passare di qua. Fatevi un attimo vedere. Ci conviene andare di qua? No. Madonna. Di nuovo o no? Mi spiace ma no. Allora ci conviene passare di qua. Qua è chiuso quindi dobbiamo andare tutto di qua. Chi siete? Ehi nonno, cosa fai qua giù? Pensavo che l'entrata fosse bloccata. Vivo qua giù da molto tempo. Da solo, in un posto simile. Come si vede sono un mutante e i mostri mi lasciano in pace. Ma ultimamente i miei vicini se ne vanno in giro a distruggere. Davvero? Lo stiamo cercando. Oh, vorresti farlo fuori per me eh? Se vi servono notizie non esitate a chiedere. Vi aiuterò. Il luogo in cui tutti gli scarichi si riuniscono? Andate a nord-est oltre la porta vicino alla cascata. Oltre la porta vicino alla cascata. E dove stiamo andando? Ok. Di qua? No. Oh sì. Sì. Di qua? Sì. Chi è che rompe le scatole? Ah. Addio. Lì però c'è una cassa e il cadavere. Scusate eh. Lasciatemi in pace. L'ultimo di cadavere se non sbaglio. C'è sempre bava presso la scena dell'omicidio. Sembra che accada solo una volta. Di cosa stai parlando? Dicono che non torni mai nello stesso luogo. Mi chiedo perché. bevita. Allora. Curiamoci un po'. E mo' possiamo tornare. Cioè possiamo andare lì. Nella porta vicino alla cascata. che cazzo sono questi? Dio mio. Dio mio. Non potevo farmi i cazzi miei. Oh. Lasciamo perdere pure questi pipistrelli del cazzo. Ma però dobbiamo curare di nuovo coso. Da Rico. Che Rico c'ha pochissima vita. qui? Ehi. Attenzione. Non si apre. Lo farò io. Porco. Non si apre. Cazzo. Ehi. Porco Giuda. Non ci voleva. Non si apre senza la chiave. Un campanellino. C'è un campanellino all'interno. Quel campanellino deve essere... Dov'è la chiave? Vargas doveva averla di sicuro. Doveva averla persa da qualche parte quando è stato ucciso. Forse l'hanno presa ai ratti. Siamo sicuri che sia caduta qui da qualche parte? Se è stata persa potremmo non essere in grado di ritrovarla. In ogni modo dobbiamo cercarla ora. Come cazzo la troviamo? Scusami. Niente. Parli col nonno. Parte un combattimento. Quella porta è bloccata. Se si perdesse l'avrei trovata. E non l'ho. Oh già. Quei cosi spazzano via tutta l'immondizia che sta qui attorno sul pavimento. Quei cosi. Quelle cose che si muovono qua intorno. Ma è strano. Se fosse stata risucchiata quei cosi non si muoverebbero. Eccolo. Eccolo. Lui non si muove. Lui non si muove. Dio. L'abbiamo trovato. Stiamo arrivando. Un punto di salvataggio. Vaffanculo. Voglio salvare. Che cos'è? Questa è una macchina a spazzaratti. Le chiamiamo gli sgombra ratti senza gatti. Che cos'è? No. Non è rotta. Perché non si muove? Fatemi vedere un po'. Ah, c'è qualcosa dentro. Preso. Queste erano le chiavi di Vargas. Quelle da usare qui nelle fogne. Devono essere state prese da sto coso. È per questo che non si muoveva. Con queste possiamo aprire la porta. Sì, dovrebbe essere lì. Oh, apri la porta. Ma è... Porca... No, deve essere questa. Cosa? Presto. Perché ci sono così tante chiavi? Forse questa. Non quella. Questa. Finalmente. Siete pronti? Aspetta. Chi stai aspettando? Muoviamoci. Eh, sto aspettando. Ma... Vabbè. Volevo curarti un attimo. Cosa? Non è qui. Guardate in alto. Si è spostato. Non è qui. Sembra proprio che si possa muovere all'esterno di questi... Scarichi fognari. Dannazione. Avremmo dovuto trovarlo qui. Cos'è questo? Campanellino. Per quale motivo potrebbe avere questa cosa? Aspetta. Possiamo attirarlo con questo coso? Non sembra che abbia intenzione di mostrarsi ora. Dove possiamo usarlo? Infettiamo su ciò che abbiamo scoperto finora. Che lo possiamo equipaggiare per caso? No. No. Recupera. Quasi, 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 glielo metto a lui. Ok. Vediamo se riusciamo a fare... Madonna. Parkour. Por... Ok. Oh! C'è la etere. Quindi, che dobbiamo fare? C'è la brava nello scarico. Ci saranno molti posti come questo. Sì. Questo deve essere lo scarico da cui va e viene. È così. Useremo quel campanellino per attirarlo fuori. Ok. Però prima io volevo... Volevo tornare un attimo... A salvare. Se mi ricordassi dov'è il punto di salvataggio. Ok. Allora. Utilizziamo una tenda. Salviamo. E andiamo ad attirare sto coso. Sto mostro rosso. Provo ad usarlo. No. Qui vicino c'è stato un omicidio. Ma non è questo il posto. Quindi dove lo devo usare? Qui. Ne sono certo. Questo è l'unico scarico in cui è presente Bava e non c'è stato alcun omicidio nei paraggi. Va bene, ho capito. Va bene. Grazie a tutti. Ci siamo finalmente, affrontiamo questo pezzo di merda. Red Room. Una girazione a Shining, cos'è? Uuuuh. Per Dio. 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 Grazie a tutti. 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 Quando schiatta il bastardo... Dai, devi morire. Egli abbiamo fatto un bordello di danni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fu sei imparato. Mamma mia. Mamma mia. Ci vediamo... ti aspetta... Ehi... due... non scopriamo... con questo intento... Il generatore... Il generatore... Il generatore del primo portale si trova a 160 km a sud-ovest di Northion ed a 3800 metri sottoterra. le sue onde di... le sue onde di interferenza rendono... le sue onde di interferenza rendono impossibile usare in quest'area le armi guidate a distanza. Perciò l'hack dovrà essere pilotato manualmente fino alla fine. Dopo la sospensione... Dopo la sospensione dello stato azione furtiva... fornirete una scorta diretta per l'hack dentro la zona di difesa nemica. Qualche domanda? Beh... Sì, tenente? Capisco i nostri ordini di scortare l'hack. Ma qual è il nostro obiettivo principale? Questa è classificata come informazione a voi non accessibile. Ma senza sapere il nostro obiettivo, la nostra reazione a qualsiasi ordine sarà lenta. Anche se ci ha soltanto ordinato di fornire protezione. Dobbiamo almeno sapere qual è l'obiettivo dell'attacco. L'obiettivo verrà divulgato durante la missione. Sarà subito trasmesso ai piloti dell'hack. Ma... Il vostro unico compito è di proteggere l'hack dalle armi antiaeree del nemico. Qualche problema? No... Se è così... Qualcos'altro? Allora questo conclude la spiegazione delle disposizioni principali. Dettagli riguarda il terreno, le condizioni atmosferiche e la difesa del nemico sono a vostra disposizione. La missione inizia alle 17. Fino ad allora attendete nelle unità assegnatevi. Non dovrei aver bisogno di ricordarvi che questa missione è una purificazione. Ricordate, noi abbiamo autorità assoluta sugli agnelli. Rompete le righe! Cazzo tenente! Questa cosa non mi va proprio giù. Come possiamo continuare in questo modo? Quello lì che intendeva quando ha detto che l'obiettivo non ha nulla a che vedere con noi. Silenzio, sto pensando. Non mi mangi, eh? Oh, te le donne isteriche. Sei pronto a assoprire le conseguenze di quel tuo commento? Cosa c'è? C'è qualcosa che le dà fastidio? Scusa, sono molto tesa. Quelle bombe autoesplosive non sono altro che un'unità aerea con una a bordo delle bombe di tipo Kiev. Non capisco perché debbano usarle tutte così all'improvviso. È solo che ce ne sono troppe. Una sola di quelle avrebbe abbastanza potenza di fuoco, ma usarne 8 vuol dire distruzione totale. Non ci hanno ancora detto il nostro obiettivo e di certo non le sganceremo solo per divertimento. Potete scommetterci che sono preoccupata. Forse per purificare i gnaienli? Sono umani, proprio come noi, no? Devono darci una ragione. Non posso continuare a farlo solo perché è un ordine. Che c'è? Nulla. Anche se siamo chiamati solariani, noi siamo cittadini di terza classe. Detti anche api operaie. Posso capire se fossimo noi ad obitare di questi ordini. Ma voi, voi siete diversa. Siete una pura cittadina di prima classe. E venite da una buona famiglia. Ho sentito dire che vostro padre ha molto peso tra i militari. Mio padre e la mia famiglia non hanno nulla a che vedere con questa faccenda. Beh, se me lo chiede una cittadina di prima classe che la pensa così, è un po' strano. Non proprio, è piuttosto naturale. Allora, cosa ne pensa? Lo farà? L'esercito ci degraderà tutti a cittadini di terza classe. Non preoccupatevi. Comperò solo il mio dovere. Ma l'unica cosa che farò sarà scortare l'hect. Non farò null'altro. Ma, e se succede qualcosa? Si sta solo mettendo nell'angolo. Non posso farne a meno, credo. Beh, per noi non c'è differenza. Faccio solo ciò che le viene detto. Altro non importa. Con chi stava parlando, Sheetan? E perché stava parlando della mia eliminazione? Sei in ritardo? Mi hai fatto aspettare per secoli. Oh eh, scusami. Dopo il fatto, Doc ha detto di voler ripagare il favore di aver ammazzato il mostro. Così l'ho aspettato fuori. Davvero? Oh beh, almeno abbiamo messo fine agli omicidi. Sì, è vero. E inoltre si è potuta provare l'innocenza di Faye. Immagino anche che l'ordine di pietato l'accesso alle fogne sia stato tolto subito dopo. Comunque la mia alleanza con voi finisce qui. Faye, la prossima volta che ci incontriamo saremo nemici. Avanti, prova a battermi. Mi piacerebbe vederti che provi a regolare i conti con me. Ehi, hai il braccio ferito? Non puoi battagliare in questo stato. Puoi davvero permetterti di preoccuparti del tuo avversario? Ma... Enrico? Prima preoccupati di te stesso, poi degli altri. Non fermarti ora. Offrimi il tuo miglior combattimento. Se non farei del tuo meglio, potresti essere tu a morire. Capito? Bene. Ottima cosa. Bene, ora che quel problema è stato risolto, ho fatto tutto ciò che potevo per aiutarti. Il resto è sulle tue spalle, Faye. Devi risolvere questo problema con le tue stesse mani. Lo credo anch'io. Il suo braccio ferito ti preoccupa davvero così tanto? Faye, lo capisce che non abbiamo... Lo so, Doc. Non abbiamo molto tempo da perdere. E per di più, quello che ha detto è vero. In battaglia non ci si deve trattenere. L'etichetta di un combattente impone di fare sempre un vero combattimento. Sembra che io fossi troppo preoccupato. Comunque, ora riposiamoci. Ricorda, per prima cosa devi vincere la finale del torneo. E il campione non è l'unico che devi battere. Ok. Ragazzi, io vi ringrazio per la visione, per l'attenzione, per la compagnia e per il supporto, come sempre. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Xenogears dove, immagino, concluderemo il torneo di battagliare. E vedremo cosa accadrà. E cosa hanno intenzione di fare anche le forze di Kebura. Ciao a tutti ragazzi.